diciamo che arriva fuori il capitolo 2 e vai si vuole tanto tempo per dei secondi si vuole di giocare non posso stare qua vabbè è in bufrenze l'altra volta l'abbiamo sconfitto blu direi quasi gli altri però è ritornato nel capitolo 2 con i suoi amici e ci sono due nuovi amici nuovi perché non giocare tutti questi giochi è in bufrenze ora non so ma tutti i giochi li stanno creando tutti quei spaventosi io gli ho portato vuota che scappi che scappi scappiamo da chi votate vabbè non vota nessuno mistura di sicurezza attiva che è attivi io non conosco neanche una sicurezza attiva che cosa significa grazie mille per avete votato mi sa che come notte non c'è nessuno se sono blu come nel capitolo 1 perché mi sa che ci deve essere qualcun altro no sempre loro tutti uguali tutti diversi tutti forse è blu ok adios son sparido questi sono tutti e due ma stai c'è in su parte davvero no ma io quando gioco questi giochi guardate poterlo sono blu o che è pure il green ma che sono due amici e aspetta che devo consegnare prima devo vedere cosa c'era nella nella zona questo è il castello di blu qual'era la castello di blu ok questa è la abbassato non mi prendono per questo non mi prendono ma si è buggato ma quelli ci sono solo tre monstri nel prima notte no ma così non si riesco non si riesco a giocare se nel capitolo ci siamo fatti spottere da blu da green da orange da purple da red che abbiamo conosciuto alla fine il capitolo ora abbiamo anche anche questi tre che ma orange mi sa che non c'è o c'è perché forse nella notte 3 è venuto ora spero mi sa che qua viene nella notte 2 vabbè non vi faccio domande è meglio giocare ok quanti minuti è quanto si è fatto del video 3 minuti e 53 secondi ok sto giocando troppo però niente anche una lampadina solo una lampadina trovato gli altri ho fatto casino tutti voglia trovate perché non andate a mettere io non posso credere perché c'è una curta davanti vi fa parlare di al letto ok ora votiamo che mi interessa a me forse ci sarà un nuovo monstro io dirò che non c'è è mai sa che ci sarà orange votate votate sì ma c'è ma c'è blu però cosa facciamo ci dobbiamo mettere dal finestra e o no cosa o no venire qui è stato un errore e te l'avevo detto perché l'altro abbiamo detto che c'erano i mostri e lui ora dice se veniamo qui era un errore ma che errore già no c'è l'altro c'è l'altro c'è l'altro ma ma lo voglio vedere com'è fatto l'altro 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 patello 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 pacame capane le campane sono due ora ma io ora abbiamo quattro monstri poi non c'è l'altro ma non c'è l'altro perché il primo co helicopter helicopter va bene ma l'ho visto io l'ho visto io con qualcosa di helicoptero ma è vero con l'helicoptero ma è l'helicoptero ma chi è vero però devo fare una galina ma guarda va bene ma adesso polpina faccio vedere ma ma questo spunta davanti ma questo spunta no 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 c'è mi ha visto la gas come mi ha preso si è baggata ho le cose fammi No, no, a me Se tocco un pochino No, a me Siamo un pochino avanti Ok No, che becchino Ah, ma devo saltare già nel tampolino Salta Uh Mi sono liberato da Daiello E non hai Non hai niente da mangiare Peccato che non hai niente da mangiare Che schifo Che fai, Memerino Poverino che non hai niente da mangiare Ma che l'interessa Che vogliamo morire tu? Tutti quanti Non penso proprio Qua c'è blu Qua siamo tutti Qua c'è purple Mamma mia Ma questa notte è proprio difficile Siamo sul 7 e sul 15 Ma niente non vi ho raccolto Quatticamente niente Ma vuoi venire e farti vedere dopo? Ma questo è proprio scema Ma è vero che lei Che non sapevi che qua c'era blu Ma quindi sono io Ok Non conosco niente Fa tutto male C'è anche l'hielo C'è anche blu E sei morta No, non è morta È morta Non è morta È morta Ma non so se è morta E non è morta Anzi Lasciamo perdere E poi è l'ho mantenita io Ma io sta venendo proprio Dove dobbiamo andare io Chiudi 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 Eccole Siamo 8 e 6 secondi Ma là c'è l'altro Ma vedete che c'è blu Ma c'è blu Forse che non c'è E vabbè Tu apri la scatola Quella apri la scatola Chi vince Io ho vinto Col me non avete niente Dalla con l'alpe Io ora esco dalla porta Ma come mi vede Come mi vede il gallino Galletta Che mi vede da tutte le parti No, no, no No, no, no Ma che è Ma questa è la battaglia finale No, ma con me ce l'ha Ma perché non ce l'ha preso Ah, ho un trick 9 minuti e 2 secondi Ma il video è lungo Anzi Va beh Aspettiamo qua 3 anni 3 anni dopo Non siamo riusciti manco a mettere qualcosa Meglio Meglio Sei un genio 9 minuti e 33 e 34 secondi 3 mamma mia 9 minuti e 38 secondi Ok Ma il video è lungo Ma il video è lungo Ma qua Ma capito tu Si vince 2 secondi Mamma mia Mamma mia Votiamo Ora che sei Qua Ah, vuoi sfonderla a porta Per controllare se c'è Red Ma più o meglio Io lo voglio Io lo voglio staccare Per fare qualcosa Ma cosa sono Le testi di Red Beh, mamma mia Ma pure le testi di Red Ci volevano Ma come è arrivato Ragazzi Mi ha detto una parola Mi ha detto qualcosa In Chinesi Qualcosa E come è arrivato Questo dopo Mi spiegate? Va bene Tutti Proviamo di nuovo Dove Doviamo raccogli Le sue teste Ma non sono tu Te le raccogli tu Ti prego No Ma sono le tinne Trova Il guardi Ah ma Il guardi significa Lucky Ma Lucky Che belli Ma vado Ci ci Ti T Netti Spike For And No scappa 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 11 minuti ma che? 16! 16 siamo fortissimi 16 hanno visto il timer di due secondi 11 minuti e 13 secondi almeno me lo prendo io l'altro vabbè siamo su 7 con queste 8 ma se abbiamo visto le internet perchè non ne sono tutti così più veloce 9 su 10 ne manca l'ultimo è arrivata la carina puffiolina è arrivata la polpetta la polpetta non se la mangia lei la polpetta se la mangia blu anzi che io dai ci si manca l'ultimo ma per prendere qualcosa l'ultimo qualche cosa ci vuole tre ore lo avete preso no invece qualcuno che è passato però manco non è qua 12 minuti e quant'è ah sì 12 minuti 12 minuti 12 minuti e 13 secondi dai siamo forti abbiamo ultime due notti la quarta e la quinta e finiamo e se ne andiamo da qua salve è inutile che ti nascono e ce l'abbiamo anche fatta ora ora buon lavoro a tutti ma che buon lavoro a tutti che dice avevo finito il lavoro questo non è lavoro questo è il capo foro rainbow friends amoni balla bons 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 ok non so bene non c'è tempo da perdere dobbiamo scappare il mio pia primo piano e fuggire a madonna fuggire da qua ma questo è un luci gigante ma come ma come facciamo scappare dobbiamo preparare una torta qui così se ne andiamo veloci da qua ma come veloci da qua io già voglio andare ragazzi una coccinella no c'è ciano c'è ciano ora c'è anche azzurro ciano 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 si chiama ciano perché è così personale con l'insetto ma è femmina purple e anche sciano non abbiamo tempo da perdere dobbiamo sbrigarsi a fare la tutta perché così se scappiamo da questo posto maledetto anziché maledetto ultramaledetto anziché minecraft anziché o anziché roblox door anziché le patate tue che qua c'è il green anziché le tue cose e cose anziché le luci anziché case anziché se siamo andati anziché mi hai visto non mi hai preso anziché mi hai visto mi hai preso però neanche non mi hai preso meno mai che mi sono fuggito siamo a 0 su 9 dai io ne ho 3 ma che bello siamo a 14 minuti e 36 secondi dai dai che finiamo il vi ma qua sta registrando ah si sta registrando perché ho sparato che vi ma ci sono anche l'arma perché non posso prendere un'arma e sparare tutti ma come mi ha preso io ero la e lui era la non posso prendere un'arma per sparare tutti i rainbow friends così 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 avevo vinto il gioco 2 secondi vabbè non si fa niente avvio mi ha detto che a chi vuoi prendere a chi vuoi prendere ora no ora non hai manco cosa di mangiare rimani la bocca aperta e ora te ne vai via ora vai via ciò e rimani la che a chi pensi a me io non esisto e dopo non pensare sempre a me perché ci sono anche gli altri che devi pensare non sempre a me e guarda dove viene l'helicoptero che farà anche la rotta della fattoria ma c'è poco ma c'è pure blu ma tutti sono ma qua tutti sono buggati c'è blu è buggato quello è buggato quello è buggato e io sono rimasto qua bloccato quindi blu è buggato anche l'helicoptero non posso stare quattro ore io me ne vado stesso non racconti perché se mi pesca e basta 16 minuti e 12 secondi di viola tana viola tana non di viola tana poi potete vedere ma blu come si è liberato è quasi l'ha bloccato buh ragazzi ma qua in questo episodio tutti stanno liberando tutti stanno facendo caso quale nel secondo certo a favore non so neanche cosa ho vinto nel gioco papà questo è l'ultimo episodio che farò con il rainbow friends se no il capitolo 3 io il video non il faggio votat a chi l'interessa di questa cosa 12 secondi votate scappa scappa non ho più la scatola e che è come nel capitolo in tutti i finali che siamo quasi niente scatola anziché scatola siamo rimasti solo in 4 anziché 5 solo 4 siamo rimasti mi metto qua vabbè faccio 0 giro tondo si si metti con me amico mio preferito che siamo uguali i capelli non abbiamo ma quanti siamo? si unisciti quanti siamo? 1 2 3 4 5 ma 6 siamo? ma non ci facevo vedere a 5 votare ma quello perchè sta fermo? oh wake up 17 minuti e 58 secondi dai che stiamo finendo anche il video che bello sono divertente finire il video è qualcosa estrema vabbè sono due carelli vuote di nessuno no no verso qua verso qua ci sono i diamanti casi mille oh e tu come si fai qua? viene qua che ti do battaglie e ti do ma ragazzi ragazzi c'è un problema qua non c'è l'altro bacon ah ma ci sono anche i lucis ma salve i lucis cosa volete fare? un giro? io non voglio farli giro io me ne voglio scappare voi fate il giro con calma ma noi non siamo pronti ora sì ah siete con lui papà papà scrividi tot tot vai dove siamo arrivate perché c'è X ma da qua si poteva uscire due secondi ed siamo già usciti dal rainbow finito lo spettacolo di orange è finito lo spettacolo cial calma scappa ma c'è pure orange è vero che c'è no ma c'è orange goodbye orange e addio dai che vinciamo il gioco i lucchi sono nell'arco poverini ma stanno negando 20 minuti e 5 secondi ma quanto è durato questo video ecco l'altro manco mi sa 13 minuti qualche secondo ma non mi ricordo se era 12 minuti o 13 14 poco dura ok ho fatto un video così lungo che manco non lo volevo fare dopo tutti quando facevano questo video correndo per secondi era 18 19 blu no 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 aiutatemi ma perché questa sta ferma non si muove fiori ah gli amici ecco bello ma certo ma non c'erano non mi dico che c'è anche pink e buongiorno giallo poi ti prendi qualche oro ti prendi qualche cosa e ah ma ora ti sei morto ah grazie per la visita ma che grazie per la visita che mi fai spaventare eh no 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 la cena non si vado io dai 21 minuti e 20 secondi scappa ma siamo noi 5 questa è la prima volta che vengo con 5 l'altra volta con 2 con 3 ho vinto questa volta con 5 stavo vincendo scappa no no ma vi ricordate nel capitolo quando si stava insegno quando si stava inseguendo l'ora e ora è ciano che si stava inseguendo e ora che ce ne capitano tra alcuni giorni chi si sarà che si segue wow nuovi amici o sono solo no 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 perché io ho provato ma ecco dopo che c'è che c'era pink ma no no si sei bloccato questa e la gabbia noi siamo accapati ora dove ce ne va ce ne va la e basta è finisce abbiamo vinto il capitolo 2 si e vai Rainbow Friends capitolo 2 ora vediamo se sei nel capitolo 3 per chi non si voglia più giocare mi sono arrabbiato mi sono fatto le cose sta dormendo e ciao